Sono alcuni dei tuoi ragazzi che sono ancora sul campo e la partita è ormai finita da parecchi minuti che piangono. Direi che basta questo per raccontare quanto ci tenessero a vincere questa partita. Ma ci tenevamo tutti, ci tenevamo tutti a poter portare questa ciliegina sulla torta. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, non siamo riusciti a trovare nei 90 minuti delle occasioni abbastanza clamorose, peccato. Però come ho detto all'inizio partita è stato un bel traguardo, abbiamo raggiunto un bel traguardo. I ragazzi hanno fatto un'esperienza secondo me straordinaria. Spero che questa gli serva per il futuro, per capire che devono lavorare, devono dare tutto da quando cominciano la settimana fino a quando arriva la partita. Perché poi hanno le capacità, sono bravi e possono raggiungere questi obiettivi. Speriamo che questo sia l'inizio per tutti quanti noi, di poter raggiungere questi traguardi, anche se non abbiamo vinto. Ma per noi comunque rimane una vittoria, perché comunque una squadra come la nostra arrivare in finale è stata una bella cosa. Faccio i complimenti allo staff, faccio i complimenti alla squadra e ringrazio la società, perché comunque, come ho detto anche all'inizio, ci dà la possibilità di poter lavorare al massimo e soprattutto da questi ragazzi la possibilità di avere tutto quello che gli serve per raggiungere il livello top che loro possono avere. Per questo siamo molto contenti. Da Verona non sono potuti arrivare i tifosi oggi, ma stanno arrivando tantissimi complimenti per la tua squadra. Da questo comunque fa piacere, c'è questa sensazione che sia comunque una vittoria questa medaglia d'argento? Ma assolutamente sì. È normale che il rammarico c'è, perché sei arrivato qui e ci abbiamo provato, l'abbiamo preparata. Poi in un momento anche molto particolare. Ci credevamo, peccato non aver potuto portare questa Coppa a Verona, perché secondo me era veramente una cosa bella per tutti quanti noi, per la società, per la città, per tutti quanti. Però siamo contenti, questo ci deve dare la carica per raggiungere gli altri obiettivi, ma soprattutto per poter oggi lavorare e cercare di portare più ragazzi possibili nei professionisti. Hai detto bene tu, uno sguardo al futuro, perché quest'anno ha esordito un altro primavera in prima squadra e poi c'è un altro campionato che sta per partire. Tra poche settimane si riparte già, anche perché questa squadra voleva giocare se l'hai play-off. Non c'è stata la possibilità per colpa dell'interruzione dei campionati, ma si riparte. Assolutamente sì. Abbiamo dei ragazzi validi, abbiamo un gruppo valido, che secondo me anche il prossimo anno ci farà togliere grandi soddisfazioni, per questo siamo pronti, si deve ripartire fra 3-4 giorni, adesso vediamo il ministro e quanti giorni di vacanza gli dà, però fanno 3-4 giorni e poi si riparte perché a breve ricomincerà una nuova stagione e i ragazzi devono essere pronti ad affrontarla e a farci togliere grandi soddisfazioni. Grazie.